Dottoressa, come cambia il mondo della disabilità nelle scuole e soprattutto nelle famiglie? Intanto c'è una grossa rivoluzione perché si sta modificando il concetto di disabilità. La disabilità deve essere intesa e deve essere vista in ottica ICF, cioè in quella relazione che è un problema, un'alterazione dello sviluppo, impatta e interagisce con i fattori contestuali, ambientali e con tutti i contesti di vita del minore e anche delle loro famiglie.